Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Dopo la direzione distrettuale antimafia, anche la procura della Corte dei Conti della Campania mette nel mirino la gestione della cosa pubblica a Caivano, il comune nell'Interland napoletano, sciolto per camorra lo scorso ottobre dal Consiglio dei Ministri, che ha affidato l'amministrazione alla guida dei tre commissari. Le notifiche emesse dai pubblici ministeri Licia Centro e Davide Vitale riguardano un ex sindaco e sei ex assessori per condotte scriteriate compiute tra il 2006 e il 2015 e per le presunte responsabilità relative al dissesto finanziario dell'ente deliberato dal Consiglio Comunale nel 2016. Per i sette amministratori pubblici sotto accusa, la magistratura contabile Campana ha chiesto la massima sanzione prevista, 20 volte l'indennità percepita durante il periodo finito sotto la lente di ingrandimento dai carabinieri di Caivano, per complessivi 256.000 euro. I provvedimenti riguardano l'ex sindaco Antonio Falco, per il quale si chiede la condanna al pagamento di 69.205 euro. Dimezzate invece le richieste per gli ex assessori. Installato il primo tutor sul territorio comunale di Somma Vesuviana, una decisione per tutelare la vita di tutti, dei giovani, ma soprattutto di coloro che utilizzano la strada per andare al lavoro. A parlare il sindaco di Somma Vesuviana, Di Sarno, il sistema di rilevamento è entrato in funzione la scorsa notte sul tratto comunale della statale 268 ed esattamente al confine tra Somma Vesuviana e Ottaviano. In questi anni sono stati molteplici gli incidenti, anche mortali, soprattutto di giovani. Con ANAS, con la polizia municipale e con la polizia stradale, il comune di Somma Vesuviana ha presentato un progetto che va nella direzione di limitare la velocità a tutela della vita delle persone, come spiega il primo cittadino sommese che sottolinea come il sistema andrà a registrare la velocità media che non dovrà superare i 90 km orari. Insieme alla polizia municipale, insieme all'ANAS, insieme alla polizia stradale, abbiamo presentato un progetto che va proprio in questa direzione, limitare la velocità e speriamo di limitare anche qualche disastro stradale che possa verificarsi su quell'asse viario, che è importante, ma dove si corre un po' troppo. Il nostro obiettivo è quello della salute dei nostri cittadini, ma soprattutto di evitare quelle morti inutili dovute a un sorpasso o a un uso di queste macchine con velocità eccessiva. Non abbiamo pensato ad altro che al benessere di chi passa sulla 268. Nella Biblioteca Nazionale di Napoli la Fondazione Real Monte Manso di Scala ha riportato alla luce e svelato alla città l'Enciclopedia di Giovanni Battista Manso, unica testimonianza conosciuta dell'opera del suo fondatore. Il prezioso manoscritto contiene i primi quattro libri dedicati rispettivamente a filosofia, logica, retorica, con una sezione sulle memorie artificiali e poetiche. Un'opportunità straordinaria per esplorare il patrimonio culturale della Napoli spagnola, come sottolinea Fabrizio Cattaneo, dei principi di San Nicardo, governatore decano del Real Monte Manso di Scala. È proprio la scoperta di un tesoro napoletano che forse andrebbe approfondito ancora di più e di cui si deve conoscere di più. Giovanni Battista Manso fu un combattente, un ministro del vicere, era un guerriero, ma era anche, come spesso capitava nel fine del Cinquecento e Prima del Secento, un letterato. È stato amico dei più grandi letterati, di musicisti come Giovanni Battista Marino, come Giovanni Battista Basile. E quindi si mostra non solo nel suo lato di guerriero e tra l'altro uomo politico che faceva frequenti viaggi in Spagna per collegamento con Filippo V, il re di Spagna, ma si mostra anche come l'animatore della cultura napoletana, fondando l'Accademia degli Oziosi, di cui lui fu principe, e radunando intorno a sé le più alti menti dell'epoca. L'iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Monte Manso, fondata a Napoli nel 1608, un'istituzione che da oltre 500 anni si impegna nell'assistenza e nelle opere di beneficenza e di cultura. A parlarci dei volumi presenti all'interno della Biblioteca Nazionale di Napoli, Maria Gabriella Manzi. Qui abbiamo Manso, Tasso, abbiamo due manoscritti, anche questi unici, che riprendono l'attività dell'Accademia degli Oziosi. La più importante accademia napoletana degli inizi del Seicento, fondata appunto da Manso nel 1611, insieme al vicere Conte di Lemos. E di cui appunto abbiamo questi manoscritti che documentano soprattutto l'attività poetica dell'Accademia. Si intitola Pagine d'autunno, la rassegna organizzata da Natura Si in collaborazione con la libreria Io Ci Sto per la stagione che si avvicina alla fine del 2023. A parlarci dell'iniziativa Maria Rosaria Lanza. Un'iniziativa per dire che si può fare cultura in modo piacevole, condividendo un bicchiere di buon vino, parlando e facendo quindi un favore alla società, creando momenti di condivisione da un punto di vista sia culturale che gastronomico. Un ciclo di eventi che unisce alle parole, impresse su carta, le note gustative e olfattive dei vini campani. Quattro settimane per quattro appuntamenti imperdibili ospitati nel bistro bio di Natura Simbia Petrarca a Napoli. Massimo Caruso, responsabile territorio dello store. Noi siamo per la salute dell'uomo, per la salute dell'ambiente, ma soprattutto per le relazioni. Le relazioni sono fondamentali, la cultura è relazione, per cui per noi è importantissimo associare momenti di presentazione di libri, di musica, di teatro, di intrattenimento con la bontà del nostro cibo. È proprio insito nella nostra missione aziendale. Gli incontri con gli autori saranno accompagnati dalla presentazione di quattro cantine campane con certificazione biologica che presenteranno il meglio della loro produzione tra novità grandi e nuove e grandi classici selezionati tra le eccellenze del territorio. Filo conduttore della rassegna è senza dubbio il piacere, non c'è niente di meglio della compagnia di un buon libro, ancora meglio se bevendo un buon bicchiere di vino. Primo autore della rassegna Marco Zurzolo che presenta il volume, i napoletani non sono romantici. Bisogna andare a prendere i ragazzi dalle case, la scolarizzazione è fondamentale perché se non si arriva a questo diventa sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. La gente si sta impigrando, i ragazzi non vanno a scuola, c'è un livello di analfabetismo abbastanza grosso, abbastanza complicato e quindi penso che sia importante andare a scuola. Per quanto riguarda la cultura del mangiare, questo è un altro discorso importante che secondo me va curato perché se non ci ritroviamo tutti i ragazzi obesi e facciamo l'America, noi non vogliamo essere come gli americani, non ce lo fotte l'America, noi siamo mediterranei e mangiamo bene, quindi bisogna mangiare bene. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie 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 Grazie